Hai voglia di un po' di azione, eh? Vieni! Sono pochi e instabili! Tutti in piedi! E fatemi sentire! Vuoi ballare o vuoi combattere? E va a segno! Un colpo da record! Oh, un colpo che lascerà il segno! Sempre che sovrappiva per raccontarlo! Vieni qui! Fattimela! Non è possibile fare una pausa! Avanti così! Avanti così! Che colpo incredibile! Non so come sia possibile riprendersi da un colpo così! Ed è a terra! Avete visto tutto il streaming? Speriamo che non sia in coma! Voglio sentire la vostra energia! Fatemi sentire l'amore! L'odio! L'emozione! I combattenti scendono in campo! Guardate che... Porca puttana! Mi fa quasi schifo, portati! E allacciate le cinture! Centro pieno! Così come piace a noi, vero? Certo che è vero! Oh, chissà che cazzo di male! Sento il profumo della tensione! I combattanti sono pronti! E voi? Beh, io spero! Sono segnali! Le scommesse si chiudono! E siamo pronti a partire! Ora sì che si ragiona! Ottimo colpo da parte di un ottimo pugile! Merda! Quello sì che è un centrone! Il pubblico vuole azione! Oh, merda! Che corpo disgustoso! Nessuno ama la violenza più del prossimo combattente! Un hooligan sin dalla culla! Una bestia di razza purissima! Uno spettacolo umano! Incollate gli occhi allo stream! Un hooligan sin dalla culla! Un hooligan sin dalla culla! Porca puttana! Che botta! Avete visto? Che botta pazzesca! Cazzo! Oddio! Mi fa male solo a vederlo! A momenti volano via i denti! Visto cosa succede quando non si vale un cazzo! Che spettacolo! E che colpo micidiale ha messo a segno! I nostri combattenti sono stocchi e cercano di risparmiare le forze! No! Non è stato un bug dello stream! Il titolo di campione ha cambiato casa! Ecco a voi la carne fresca! Oggi faccio! Non è stato un bel pollo! Non è stato un bel pollo! Lecchio! Io? Il chiamato! Il libio! Il libio! Il libio! Grazie a tutti.